Il nostro territorio può continuare a crescere solo e continuando con quelle riforme necessarie per il nostro paese. Dobbiamo continuare a far crescere l'Abruzzo, a far sì che questa regione torni all'apice con quel posto che le spetta in Italia. Per fare questo è importante continuare nella riduzione del debito e affidarci ancora a Mario Monti, una persona credibile e rispettata in tutta Europa e nel mondo. Alla Camera dei Deputati un sindaco per rappresentare il tuo territorio, Nicola Benedetti con Scelta Civica con Monti per l'Italia.